Sindaco, lei ha detto che al di là di ogni appartenenza politica abbiamo sempre condiviso l'amore per la città. Simone è stato il primo sindaco di questa città, eletto direttamente dai cittadini. A lui dobbiamo le grandi trasformazioni urbane. Penso alla spiaggia di pane e pomodoro, la prima spiaggia pubblica attrezzata, il piano urban che ha restituito la bellezza della città vecchia a tutti noi. Siamo stati su posizioni politiche diverse, ma ho sempre apprezzato il suo stile istituzionale, l'eleganza nei modi e anche la passione e l'attenzione per la città. Sindaco, c'è qualcosa che le ha lasciato in particolare, anche di concreto, di fisico? Sì, qualche volta lo prendevo in giro perché aveva lasciato prima Emiliano e poi a me il suo pettine all'interno della stanza. Lui si pettinava spesso, qualche volta lo prendevo in giro e gli dicevo, visto mi sono pettinato anch'io oggi, ho usato il tuo pettine che sta nella stanza. Grazie. 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 Grazie.